ciao e benvenuto sul canale oggi vediamo come collegare la smart tv samsung a internet a una rete wifi che hai in casa per collegarla clicca sul tasto casetta sulla tv appare il menu poi andate su col tasto sinistro del pad del joypad e andate sulla voce rotellina impostazioni poi andate con il tasto su del joypad e state quindi in questa posizione poi col tasto destro vi spostate su verso destra fino a che non trovate connesso e connesso quindi col tasto su andate su impostazioni di rete col tasto centrale a questo punto vi uscirà questa voce wireless cliccate ok col tasto centrale e qui vi usciranno tutte le wifi disponibili in casa cliccate su una wifi adesso sono già connesso e dopo che cliccherete sulla rete selezionata dovrete inserire la password della rete wifi dove state collegando io clicco su fibra cerali fibra e quando la smart tv si è collegata uscirà la spunta di collegamento e adesso la smart tv è collegata internet e potete navigare quindi cliccate sulla voce casetta date ok e qui scegliete un'app dove volete collegarvi e come per magia la tv è collegata internet spero che questo video ti è utile se ti è utile lascia un like e iscriviti al canale ciao ciao Grazie a tutti.